si dà atto che sono presenti tutti gli 12 lei vuole parlare aspetti che le do il microfono grazie signor presidente sono Sergio Carlo ho detenuto Sergio Carlo siccome io sono qui per pericolo di fuga e non c'è un avvocato attualmente che cosa devo fare? Un'istanza? me lo dica lei certo faccia un'istanza un momento senza avvocato di fiducia lei è senza avvocato di fiducia l'avvocato mio è di fuori ma siccome io perché se vengono dovrebbe venire devo fare un'istanza perché sono stato già scacciarato io per decorenze e c'è il pericolo di fuga soltanto comunque lei rifaccia le istanze intanto c'è l'avvocato di ufficio che viene nominato siccome sono ammalato sono tutte le cose che legge ah per gli arresti domiciliari che cosa ha chiesto lei? la scarcerazione? no 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 io ho avuto la decorenza termine il 13 ottobre ma ero agli arresti domiciliari ah sì per pericolo di fuga sì signora ma bene lei rifaccia l'istanza che sarà riesaminata sì signora lo ringrazio molto grazie mi dispiace se cominciamo perché ci sono dei detenuti che non sono ancora arrivati però sì ma intanto cominciamo la costituzione delle parti ad eccezione di quelli che hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia signori avvocati sono obbligati di parlare a bassa voce se è possibile e allora contorno riprendiamo l'interrogatorio lei ha parlato in istruttoria di Leonardo Greco e dei suoi fratelli sì vediamo che cosa si ricorda su queste persone Leonardo Greco è capofamiglia Rabaria tutti salvati su numero non oso tutti i suoi fratelli su numero non oso sì lei è stato da qualche posto ha visto qualcuno è stato accompagnato qualcuno io tempo fa sono iniziato a bagheria all'ottante e accompagnavo Manolo D'Agostino Leonardo D'Agostino no Emanuele scusi Manolo D'Agostino sì e accompagnavo io era l'adattante e l'adattante era iddo e c'era una partenza di gioco in partenza di bagheria in America è accompagnato dove lei D'Agostino prima accompagnavo noi duri qua a fabbrica Ruffias e tu? in una fabbrica di ferro e che mi ha iniziato dell'autostrada a bagheria sì all'uscita dell'autostrada di bagheria nello svincolo di bagheria in bagheria dopo come andato a cofino parlo con il signor Neido che ne salutiamo che si ricicchia che dice tutto buono e il signor Neido ne ha detto una persona e ne fece accompagnare in una casa in campagna in quale mette nella casa in campagna troviamo sotto la casa un certo Nino D'Amico avete trovato sotto la casa? un certo Nino D'Amico un altro un certo Nino D'Amico un certo Nino D'Amico che pure non mi ha iniziato un altro che io conosco pure anche andiamo su su e c'erano altri personaggi c'erano altri personaggi parlavano americani e più c'erano io assistivo un po' di trienze ma dopo mi sapeva fare puzza e mi ne scendevo sulle macchine quando prima di scendere la macchina c'erano le presentazioni e l'altro non conoscevano tutto io che conoscevo era uno e due lei è un altro D'Amico già lo conosceva e da chi l'era stato presentato se ti ricorda ma era massaio fanno favorelli quando ci fanno conoscenze fanno favorelli sì dopo io conoscevo Penozzo Canci e a Toto Catalano sempre non fanno favorelli invece da una presentazione ha poi presentato la fratella è un idroia conservatore e Pio Ciccio Casunofo e Mazzara mi ne scendevo io sulle macchine aspettavo come noi non finivano per vedere se la giochera buono o meno più due mezzure cinque tre ore che fuori e finivo io scendevo nella macchina io saluto e non ne ho quindi lei è uscito da questo locale dalla casa è una casa in campagna sì e aspettò il D'Agostino poi venne il D'Agostino io vi passavo da l'atto e non ne ho e ve ne siete andati lei sa se il D'Agostino era interessato in questa partita di gioca sì come senza interesse uno che passa se ne vanno male se ne va a trovare il signor Noi Duriero c'era c'era parte di gioca ma aveva parecchie gioche per la partenza perché hanno fatto altre partenze cioè era interessato per qualche per quale quantità se si ricorda la quantità un chile a mezzo due chile di droga un chile a mezzo due chile di droga sì e lei ebbe occasione di vedere come era sistemata questa droga che cosa e che attività svolgevano questi personaggi che lei ha detto le persone prima parlavano riconte dei piccoli precedentemente un gruppo diciamo gli chiedevano Moronoro gli chiedevano Moronoro a riuscire una chianza allora si parlavano il piazio le fatte riconte che avevano il piazio dopo gli chiedevano rosaccherevano un inizio e riccavano sopra la tavola rosaccherevano un inizio due sacchetti per la no rosacchetti rosacchi due sacchi per l'innovazione e c'erano tutte queste bucce l'eroina era poi vera e bianca miele eroina questi sacchi contenevano delle bucce bianche di sostanza bianca al calo sopra la tavola e ne dava per una para ci facevano un pittuso e piegavano poco gambe le eroine e la messero sopra un fornito dopo c'era una cosa che poi la messero su un fornello sopra un fornito e mi sono nascendo le buzze io a due punti la sopittavo più la buzze e mi nascendo le buzze ma c'era un cattivo odore e lei è uscito per questo e sui travagli ci usciavano per noi di destanese le d'agostino le diede spiegazioni per quanto riguardava questi sacchetti si c'era un particolare che ci avevano fatto il segnale perché precedentemente avevano avuto le fruste ci avevano avuto i piccoli racchiuccare che un miccato perché uno era buono avevano avuto discorsi perché avevano fatto un piezo prima che era buono in Palermo arrivava in America e dicevano che uno era buono allora per evitare essendo tutti tomerano un'ora ci avvicinavano la prova a casa è buona ci la consignavano ma era una prova che stavano facendo del prodotto del prodotto quando avevano il flusso quando arrivava in America c'era buona in America non era più buona c'era buona in Italia e questi segni convenzionali servivano a distinguere che cosa le varie le varie patite di gioca perché ero tutto un gruppo non era solo un pagione a rubare le tante persone invece c'erano diversi segnali nei bus ponte tagliato con i piedi matiti con i pepene l'ambe se chiede poi ne senti parlare più di questa partita di droga ha avuto qualche altra notizia sì niente se parlare quando arrisare una partita a Milano e ad Agostino mi faceva il giornale per chiamare a fare un regalo mi faceva un regalo doveva fare il regalo di Agostino a lei sì perché lo accompagnavo era la tante lei era la titana io dovevo la tante e lui era pure la titana siccome l'aveva accompagnato le aveva promesso di farle un regalo non solo in questa partita eravamo da vecchia data amici era pure nascita la famiglia nostra sì ma dico sostanzialmente a lei l'esce sul giornale allora che c'era stato che cosa? no un regalo non è vittimo dopo una parola e mi ha detto le notizie le ci sono tessi ah è fuori lui che le diede queste notizie perché io c'era appuntare i ciechi e lui c'era appuntare il regalo e c'era obbligatoriamente di prendere le bontà e passare le dà sono passato al calanzo e ci onniverevamo quasi tutti ah avevate occasione di vedervi perché lui passava no io passavo lei passava dalla la zona dove abitava io alla zona dove lui abitava sì e quindi D'Agostino le comunicò che c'era stato che so un sequestro di questa roba mi diceva il giornale dicevo verissimo mi diceva Nio Male ci ha abitato a Malano a Milano a Milano e che erano stati sequestrati si ricorda quanto io quando avevo avuto la tavola che sapeva se era 40 kg quando dopo ero giornale affacciò 40 kg dopo il sequestro intendevo sì e ha avuto occasione di sapere D'Agostino come con quali mezzi come facevano a nascondere la droga sì mi ricontava che avevano come i petani legni mattonelli avevano tanti metodi come poterla fare fighter perché uno era il primo viaggio che facevano c'erano tanti sistemi per nascondere nei petani di legno ah nelle petani di legno ci avevano le petani di legno che servivano sti petani di mattonella no ah per le mattonelle sì ah quindi le nasconde trasportavano le mattonelle e nelle petani nascondevano ci mettevano la droga dato che siamo in tema di droga Marcellone Peppuccio e Rocco lei ha conosciuti sì che cosa mi sa dire ci sa ciò dire sono uso chimici per fare la droga io ho i vetti non sono favoriti non voglio ne favoriti c'hanno una casa in campagna lato di pulso di l'acqua io non è andato ci portavo un cane a Michele Rico e c'avevo un'algera di cane più una petita di casa una petita di casa c'è una persona che abita sempre della casa c'ha voglia da rire con la famiglia e più all'altro c'era la casa vacante non stavano facendo la droga mentre io portavo il cane c'era un massalone un massone vittima che si dice non si riesce e stavano lavorando a giocare e dopo c'era un primo laboratorio dopo invece un'altra volta ero in Giaidina chiuso quando fanno la parietta nel presso di Filippo a Croce Vida di Giaidina il presso di Filippo Salvatore aveva una casa a primo piano un costruttore fu di pace Giovanna e dove aveva un appartamento d'altro siccome il laboratorio non è mica le regole varie perché c'era troppo confusione la polizia e cose e sono messi in gioco il presso di Filippo perché erano tutti soci e Massalone feglieva un chimico a casa di Filippo Salvatore diciamo Salvatore nella casa di Filippo Salvatore di Filippo Salvatore di Filippo Salvatore aveva un soprannome Abruciamontagna Abruciamontagna si Abruciamontagna occorre che avete sentito dico occorre che ripeta l'imputato no 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 domande no dico se occorre che io chiarisca quello che ha detto l'imputato che ripeta consente avete sentito noi continuiamo ad avere difficoltà a sentirla e preghiamo la signoria vostra di sollecitare l'imputato a parlare in italiano io faccio il presso non solo più lentamente ma anche in italiano ma io invece come allora io le rivolgo le stesse domande io volevo completare la mia osservazione questa mattina lo stesso imputato in qualità di test è stato sentito la corte di assise di appello di Reggio Calabria in anzi alla quale ha parlato in perfetto italiano scandendo le parole e sentiamo no che confermo non è assolutamente reale questo noi possiamo noi possiamo quello che ha detto quello che ha detto per quanto per quanto breve è limitato da alcune frasi è stato detto è stato riferito in perfetto italiano evidentemente questo atteggiamento signor Presidente è soltanto un atteggiamento comunque anche di fronte anche di fronte a queste affermazioni ora cercheremo di chiarire tutto nel modo migliore possibile però non mi pare che sia il caso di insistere su questo punto perché noi lo facciamo ripetere e anche in italiano ovvero lui riesca a parlare in italiano questo è un atteggiamento ostruzionistico e che diventa a questo punto offensivo soprattutto dopo la dimostrazione chiarissima offerta all'udienza antimeridiana che oggi dinanzi a altre corte di assise io faccio no no signor Presidente mi consenta proprio di fronte alle osservazioni dei miei contraddittori io faccio istanza che vengano risentite le registrazioni che sono state registrate a cura della RAI della? della RAI della televisione ma quando si può deturre quella è stamattina? stamattina sì questa mattina il suo interrogatorio dal quale si potrà deturre che gli ha usato un linguaggio assolutamente chiaro ed imperfetto italiano io gli faccio ripetere quello che ha detto e così vediamo un po' signor Presidente ma se noi dobbiamo subire questo atteggiamento che è un atteggiamento voluto ed è un atteggiamento avvocato però il siciliano lo comprendiamo tutti se lei mi dice che lei non lo non lo sente io mi consento forse perché evidentemente la nostra posizione rende più grave il problema se lei mi dice che non lo capisce non lo sente è un altro rispetto perché non comprendiamo il siciliano io e lei lo comprendiamo perfettamente lui stamattina ha parlato scandendo le parole in maniera comprensibile lui parla attualmente in maniera incomprensibile e l'uso del siciliano è uno dei sistemi per non farsi comprendere noi d'altronde siccome abbiamo appreso stamattina ma signor Presidente intanto noi non riusciamo a comprendere e io pur essendo siciliano la verità non riesco a comprensibile sia per il modo di esprimersi sia per il linguaggio che lui usa aggravato poi ripeto sentiamo le sue espressioni di questa mattina e avremo la certezza dell'atteggiamento ostruzionistico delle contone non hanno nessun rilievo in questo processo è un altro processo oddio ci sono avvocati che mi hanno è tutto un complesso non possiamo questa sì ma avvocato romano io non è che non le voglia dare la parola numero 12 signor Presidente mi consenta io non faccio questioni di lingua o di vernacolo però anche tutti quelli che siamo siciliani in quest'aula e siamo la più parte non riusciamo a comprendere quello che dice il signor Contorno perché si tratta di una raffica di parole ed allora io pregherei signor Presidente che vostra signoria volesse invitarlo a parlare più lentamente e più distintamente e ove ciò non fosse possibile che vostra signoria traducesse in maniera intellegibile per tutti quello che il test dice perché dobbiamo capire valutare criticare eventualmente quello che dice avvocato lei ha perfettamente ragione ma è quello che ho fatto in questo proprio all'inizio dell'udienza io non l'ho fatto perché credevo che fosse perfettamente intelligibile a tutti infatti io vi ho chiesto dico avete capito in maniera che io posso ripetere quello che dice l'inputare anzi prima io lo faccio ripetere a lui lei ha detto che è andato nel fondo a Favarella la prima parte mi pare che si è capita perfettamente quella che riguardava D'Agostino Emanuele e allora andiamo al punto in cui lei raccontava di essere andato nel fondo Favarella a portare un cane anzi io mi stavo apparecchiando a chiederle che tipo di cane ha portato prima di tutto anzi è preciso io avevo il ruptone aveva la chiave perché tutto l'uomo come tutti secondo voi ci portavo un setter e bianco e nivoro figlio di una cane mia un setter ha portato quindi un cane da caccia bianco e nivoro figlio di una cane mia il regalo il regalo e io non c'era lui non c'era e ci va l'assalenaggio io i cani mi sappiamo ne erano mesi ci va nel reginto dove c'erano i cani o comunque nella nella casetta dove c'erano i cani non lo so era un reginto deve essere recinto a questo punto c'era Massalone poi c'era Massalone davanti la casa perché ci sono un baglio di casa Massalone e Giuseppe ci sono un baglio di casa ci sono due un baglio di casa all'uomo sono rettangolati un baglio c'era un baglio sì a questo punto c'era la porta aperta e poi c'era la puzza che stavano lavorando stavano venendo a gioco e Massalone e Giuseppe erano là dentro sì dopo l'avanzato perché arrivò la macchina e il talo che arrivò è chiaro perché arrivò la macchina silenzio arrivò la macchina e la faccia ecco questi coventi noi salutavamo questi giorni non si dice che stavano lavorando io ce la stavo canta stiamo lavorando sì è bene e allora mi pare che questo sia anche ora parliamo questo fondo favarella ce lo vuole descrivere sì come è combinato questo fondo insomma perlomeno il fondo favarella sì il fondo favarella è tutto chiuso in muro tutto chiuso in muro si tratta di un fondo un fondo recinto da muro da muri è raccomandato il limite la parte di sotto l'una verso i balai deve stare avvelabati cioè il limite dalla parte di sotto del fondo sì è al limite cioè il confine dalla parte di sotto del fondo e nel baglio di casa dove fu arrestato Salvatore Montaibo venendo ricrocivete giardini ci viene la satella a cusciare un recinto a proprietà di Michele Rieco c'è una satella provenendo dal crocivete giardini verso un palermo c'è una stradella una stradella di attaccare ebbene tutta una recintuzione di muro una stradella che costeggia la recintuzione di muro di favarello e si può andare verso Villabate dopo c'è lasciata via Conte Federico e comincia il primo puittone da anno non è già sembrano la docena ha laminato il secondo puittone è tutto un pezzo laminato sotto e tutto con i bacchieri laminato laminato il primo è tutto laminato il secondo è a metà laminato la miera la miera si si tratta di rivestimento della miera si da io c'è solo il catenazzo la sera è chiuso con due catenazze e la mattina il giorno è chiuso con il catenazzo con il catenazzo solo uno arriva e uno solo la sera ce ne sono due la sera ce ne sono due e la mattina venivano andando due uomini che c'è da rincare in casa dopo subito si tratta il secondo puittone e c'è una stradella sulla sinistra quindi c'è un secondo puittone il primo secondo puittone è una stradella tutta all'uomo che va a primo bagno di casa è una stradella lunga che va fino al primo maggiore la prima strada lo secondo puittone si può andare a casa per una stessa strada nell'altro puittone è sempre una strada una strada arrivando in un bagno ci sono rupalasse o rupalasse che sono che fanno i pensallini e si tratta se ne ho bagno ah ci sono delle pensalline no ora c'è pelasse che fare i pensallini ah per fare le pensalline due o tre pelasse prima strada a prima strada a prima strada a prima strada c'è una poittarana all'amarato in giocare c'è un caracirante quindi poi c'è una porta grande con le ricoperte dalla miera e la miera e c'è un 49 vecchia data un camion molto vecchio ah c'è un camion si va sulla destra e c'è l'ufficio rusinatore tutto a mobili nove tutto sempre a un teatro molto fino si va sulla sinistra e sta chiamando sulle scienze si va sulla sinistra e si sale e davanti si fanno un riunione e i compagni un faccio ci fanno il tuo macchinario recente la glome si impacchano la glome si va qui avanti e c'è un bacio in altre case e iniziano a giocare di altro si va più avanti e ci sono altre case e sempre in gioco bagno e ci sta guadiano dopo si cammina e si va a finire la giacciatella si va a finire e iniziano a nuovi cani o laboratori la giacciata si va a iniziano a tiro a piccione a dove si faceva il tiro al piccione e sotto i tiro a piccione ci facevano macino non macinavano i mannareni sulla sinistra sulla tua sinistra c'era la giacciatella non ne avevamo un altro bagno di caso dove si facevano a fare i grandi manciati si facevano dei banchetti tutti i grandi manciati e c'è tutto un altro bagno quando si mettevano le macchine le macchine si mettevano l'origno per far vedere quando passavano la cotta per non farle vedere quando passavano la cotta e mettevano l'origno le macchine no? l'origno ah quando portavano la polizia insomma l'alicottero come passavano l'alicottero della polizia e lì c'è una cucina a L c'è una bella cucina a Ranno e dopo il salone non si mangiava all'altro c'è una perriera una perriera che cosa? una cava a ripiazza ah una perriera però non funziona più e dopo ci sono tante coniglie ah c'è una cava di pietra che però non è ora ultimamente l'ultimamente che io avevo l'80 con un frammento più ci facevano un altro poittone e quando era l'alte dante l'emputato Michele Greco e i compagni ci facevano un altro poittone che dava verso un'automontaibu era una pettola davanti e non c'era subito proprio l'abbatto perciò non c'era bisogno di chiudere quanto Federico ma già se avevano l'abbatto no? non avevano chiostrano non erano riusciti ma si tratta di un fondo molto grande? sì sarebbe 150 tumuli ne tenero 100 tumuli era una cosa grandissima 100 tumuli 150 tumuli e assai e ci sono i conigli a dare in c'è un altro poittone le sa qualche cosa per i catenari? scusa lei stava parlando parli pure c'è un altro poittone quando riuscì a la luca a Bagarella subito il signor Michele Reco c'erano bontana tutta l'aurica avevano lasciato a Bagarella e ci avevano trovato la chiave a roboittone avevano un problema se ti arrivavano in verità subito ci canciarono i catenazzi come sempre si faceva e subito ogni volta che si trovava per esempio una chiave addosso a qualcuno che veniva arrestato c'erano pensieri potevano arrivare già e ci canciavano i catenazzi si provvedeva a cambiare la chiave nel catenazzo e c'erano i catenazzi e c'erano i catenazzi e c'erano i catenazzi c'erano tutti gli uomini d'onore che avevano ma tutti quelli di quali qualcuno qualcuno poteva capitare con la via però invece c'erano o qualcuno a volte si sferano pur da c'erano questo non è importante dottor Rina l'ha conosciuto come no e quando l'ha conosciuto da chi l'ha avuto presentato se si ricorda ma lo conoscevo quando è diventato mononoro perché tu già sa che ero mononoro lo conoscevo nel bontà lo conoscevo nel meccatereco perché ci avevano un rinno in una commissione e io l'ho sempre dà tutta la compagnia lo conosco personalmente lo sa descrivere come è si si e che ho baci mia fanno vittere ancora un po' che notte una faccia bella tonna capite fatte lisce eccolo Favuzza Giovanni l'ha conosciuto? Favuzza Giovanni si e come dove quando Favuzza Giovanni doveva Conte Federico erano un pezzettino a attaccare con chi di noi e in piatti ferrovia avevo cugnato Saro Riccobono che Guaidiano non aveva proprietà io e chi c'era che tu pittava in masciata quando io ero il dino o un c'era per farmi pure ammazzare Purochisi lei l'ha riconosciuto in fotografia no l'ha riconosciuto in fotografia Ciccio fanno ha detto se per caso sia necessario intervenire che lui conosce personalmente il Favuzza Giovanni si e che era cognato di Ciccio Riccobono di Ciccio Riccobono Guaidiano in la zona indossale Guaidiano non lo aveva detto nemmeno che doveva il signor Conte Guaidiano lo aveva detto lo signor Giuseppe Cacellano e compagno e di Cantè lo conosce da molto tempo si si io nascevo in Orreone perciò poi con posso conosci certo quello di Orreone li conosce ma li conosce pure l'altro fuori Orreone figuriamo a chiudere Orreone di Gregorio fratelli di Gregorio li ha conosciuti di Gregorio che? di Gregorio Francesco di Gregorio Gaetano no Gaetano è il padre ah il padre Gaetano è il padre Stefano e Francesco li conosce si ricorda qualche cosa che riguarda il di Gregorio Gaetano? ma c'è chi deroghe di Stefano c'è chi del suo padre di Stefano ce l'ha fatto con la morte di Stefano bontà informazione e tutto cosa l'abbiamo morito io se fosse morito non so si è ancora in vita il suo padre era un moronore della vecchia data e abbiamo un concetto per fare le vacche in merito di aver portato un'altra persona non è messo a moro a coeto e dopo si è offeso perché non ci è detto di lei in mala o prescrivereva il cosa leggera un po' che però Romano Pietro l'ha conosciuto? si Romano Pietro è l'autorato che fanno i quotidiani a via in Figerinto c'è un soprannome Romano Pietro? ci dice non buggerlo perché? perché facevo buggerlo prima perché facevo il pugilante poi ci sono due fratelli due fratelli la Rosa la Rosa come? chiedi la Rosa mi sembra la Rosa Antonino è un'altra persona la Rosa Antonino è zio per un'altra di pozzetta per un grieco abita a Verge Berrosse è un buonore come il c'è per un giamello la Rosa è la Vallatina pure un buonore che c'è Vallatina c'è un soprannome questo è la Rosa Antonino? sì ci dice non buggerlo perché voleva volontare una ragazzina è a buon processo Teresi Francesco l'ha conosciuto Teresi Francesco? Teresi Francesco sì lo conosco è cognato Presidente non vorrei confondersi tu quale Teresi parla Teresi ce ne avevamo un po' di confusione è cognato di? no non vorrei Teresi che mi diceva non potesse essere Teresi sarebbe il cognato di Menoli sì di Manoli io ho sempre abbiamo detto Manoli non dialetto no sì e lei l'ha avuto presentato si ricorda da chi? non mi ricordo se fu un isci era sempre il cato era sempre buttato da? da Stefano Bontà non mi ricordo da Stefano Bontà sì aveva il locale che avevamo niente dei Venengo che mi sa dire? dei Venengo se lei il generale parla di Venengo sì sono un onore erano chimici appartavano la nostra famiglia erano chimici cioè si occupavano la mia fine base la portavano i ritori c'era qualcuno che aveva qualche soprannome particolare? di Venengo di Venengo sì di Venengo c'è un dottore ah chiamato dottore sì un dottore perché? si ricorda anche il nome? sì Nino si chiama Nino detto un dottore sì per quale motivo chiama uno dottore? uno è un maestro che fa la gioca perciò quando uno fa già la gioca è un dottore è un dottore è un dottore sì mi fate finire questo interrogatorio e poi sì tempo era chiamato il dottore se lei si ricorda da quanto tempo era chiamato il dottore non ci so scegliere quanto era chiamato il dottore perché io ne c'era sempre coito quando ecco quando a me mi chiamavano Corriolano che sa quando non mi sono Corriolano c'è cosa sapeva c'è cosa non sapeva non sa quanto tempo mi chiamavano il dottore Cosimano Pietro sì che cosa mi sa dire di Cosimano Pietro abita a quattro pochi tra la via Ciacull era un modo onore appartenente la famiglia di Ciacull ora è un po' anziano ma ancora funziona come basante in un paese ma che cosa faceva faceva il periello e se mi faceva il periello si accattò male proprietà come inserì pigliavo ogni mese si ricorda che gliel'ha presentato come l'ha conosciuto come uomo d'onore signor Presidente tutti i uomo d'onore quando ne presentiamo io non posso ricordarle tutte per un solo motivo perché quando ne presentiamo ne facciamo un tesserino o magari ne veriamo ne veriamo tante persone non ci voglio fare una precisazione tanto per l'utero e tante retrosse siccome ogni volta si conosce un uomo d'onore come ti chiamo la stessa cosa quando si presenta un uomo d'onore si dice e la stessa cosa se mi interessa a sapere se due paesi se la borgata e cosa mi vado in fondo e mi posso ma se mi interessa se la stessa cosa è piaci raffricciuto perché dopo tutti i particolari quando c'è un uomo o quando si vanno a mangiare ci sono sempre gente nuove o si presentano non si può ridare tutti i particolari questo è un punto io le faccio una domanda ma io l'ho voluto chiarire proprio a lei fa una cosa di carattere generale comunque le sono state presentate come certe persone come uomini d'onore di altre lei dice sono uomini d'onore perché io l'ho saputo ma non tramite una presentazione lei può essere certo di questa attribuzione di questa qualifica di uomo d'onore per sentito dire perché l'è stato detto da altri come può essere certo questo è il ragionamento che lei mi sta facendo è una domanda no no la domanda è il ragionamento questo è un discorso che ci voglio chiarire una volta per sempre quando si dice chi deve un uomo d'onore non ci è mai capitato che io posso dire chi deve un uomo d'onore non esiste perciò quando dico utizio e uomo d'onore è un contratto non ci sono per forza riconoscimento perciò per favore insomma questi commenti sono veramente i disponenti insomma diciamolo pure lasciateci parlare in questo momento come lasciamo parlare voi quando vi diamo la parola stavamo dicendo noi la corte la giustizia in genere non può credere in verba magista diciamo in latino ma insomma mi viene questa espressione cioè non è che si può chiedere assolutamente a una persona lei mi deve dire da quali elementi trae questa sua sicurezza dell'attribuzione della qualità non è che io ne trao è la realtà rifatta perché se magari ne traessi ricopi io dopo esso è uomo d'onore non esiste perché sarebbe proprio una cosa impossibile invece uno si dice oh mio frate è uomo d'onore e io ci dico a un altro amico mio che è uomo d'onore e chiedo a mio frate è finito quando viene a mio frate c'è il rispetto perché è pure uomo d'onore se non è stato presentato perciò io ho un uomo d'onore non ci sono non dobbiamo e non do dubbio sono uomo d'onore ma lei da chi l'ha saputo come può essere getto di questa attribuzione l'attribuzione quando mi ha ricevuto un amico e mi dice Franco è uomo d'onore o Peppino è uomo d'onore cioè un altro uomo d'onore un altro uomo d'onore senza presentarlo ormai perché non è presente se è presente tutto se è chiarito quindi sostanzialmente lei ha saputo da un altro uomo d'onore nella nostra ambiente si usa perché se il membro io ero umano mi andava a fare sotto una rapina fuori dal Palermo e mi dice in un altro paese c'è Peppino c'è Chiachino io mi ci posso appoggiare perché Chiachino è pure un amore d'onore un altro uomo d'onore non ci arrivo ci sono gli amici che ci fanno bontà e non ci fanno rinzi perciò questo è molto ranno in genere per tutte cose sia per l'omicidio sia per la qualsiasi cosa insomma la conoscenza di questi uomini d'onore allora servirebbe di altri posti per esempio o di altre famiglie anche per poterla sfruttare in determinate occasioni come quella per esempio di chiedere aiuto qualsiasi aiuto in qualsiasi momento in qualsiasi momento allora io direi che no un momento un attimo dunque vorrei passare alle domande dalle parti delle parti passiamo alla domanda delle parti cioè prima la parte civile dunque parte civile devono fare domande le parti civili ah scusi numero ottante civile signor Presidente l'imputato ci ha parlato degli effetti determinati sul piano della reggenza dopo la morte di Stefano Bontade fatto riferimento alla reggenza di Pullarà e di Pietro Loiacono sì vorremmo sapere se un episodio analogo si verificò dopo la morte di Inserillo e soprattutto se sull'omicidio di Inserillo è in condizione di darci dei particolari specifici specialmente per quanto riguarda chi accompagnò l'Inserillo all'appuntamento dopo il quale trovo la morte e così via lei ha parlato dell'omicidio di Inserillo qualche cosa l'ha detto sostanzialmente dopo la morte di Inserillo per la reggenza che ci fu chi fu nominato reggente cosa dire? non mi ricordo il particolare non so la dichiarazione che ha fatto se la gli interessa lei ha raccontato che l'interessa però io per il momento non posso ricordare tutto in memoria tutti i separati ce ne sono successi tanto per quanto riguarda la reggenza dice lei si non la so com'è finita la reggenza comunque non la ricordo ci sa dare qualche particolare sull'omicidio di Inserillo lei ha detto che il interessa è stato ucciso perché era andato in quella via dove c'era quando è morto in Inserillo c'era io detto il pugile detto il caione schiamato il caione salvatore il caione aveva una donna l'uno nel stesso palazzo allora l'hanno accompagnato in quel palazzo la camera gliela ha brindata io sono convinto si è fatto l'assare e se ne è o scendere ci fu che ci portò la base perché c'era un signor Montaibo che ne sapeva qualche cosa ci fu che gli portò la base il signor Montaibo era amico prima la stessa famiglia e lo duccio inserillo dopo invece nella morte come prima ci lettono la carica velabatica e la famiglia il pastigliano se ne ha velabate e diventò il reggente la premazione la morte inserita ci lettono il reggente aiuto a velabate ecco e quindi la reggente a velabate no il pastigliano non la sa ciò capito prima sì ecco perché l'imputato si riferiva passo di rigano perché la reggenza è il sede di passo di rigano visto che si sostiene questo un'altra domanda per quanto riguarda invece il traffico di stupefacenti nel corso del suo primo interrogatorio l'imputato ha dichiarato testualmente i siciliani di Cosa Nostra rispondono della droga può precisarci a chi rispondono cioè chi materialmente o almeno così ho capito probabilmente ho capito male chi materialmente effettua l'operazione relativa alla droga risponde a qualcuno che evidentemente sta più in alto lei ha usato questa espressione non ricordo se l'ho usata ma comunque ne posso dare subito applicazioni io mi riferivo ai siciliani perché Cosa Nostra l'avete in mano trafiguare la droga i siciliani parlavano Melanese i siciliani però a livello dell'ambiente nostro della gente tutte pure gente della mafia gente politica questo mi riferivo io i siciliani Cosa Nostra in tema noi siciliani è gente normale ma dice lei ha detto che si con facità che l'avrebbe detto la parola così ma rispondono questi i fatti che voglio rispondono nel senso in che senso i siciliani mi riferivo tra tutti i traffichi che avevano un tema in un'altra pala in metà è Cosa Nostra quindi era una cosa un traffico limitato ai siciliani di Cosa Nostra ogni cosa vetteva in palermo ogni cosa aveva in palermo i siciliani però non mi riferivo a tutto il pubblico non vorrei sottentire questo è il punto in relazione proprio a quest'ultima considerazione nell'interrogatorio reso al giudice istruttore in data 27 aprile 85 pagina 2 l'imputato ha raccontato di un colloquio avuto con l'imputato Spadaro nel carcere di Novara durante il quale commentando il comportamento del lavardera inteso cuniglio ebbe a profferire testualmente queste parole mi consumau che cosa intendeva dire Spadaro allora chiediamo intanto a chi ha riferito l'episodio Spadaro penso che contesti questo episodio ha aggiunto qualcos'altro oltre a queste parole si comunque l'episodio lo ricorda lei ha parlato con Spadaro si ma io se ne consumaro non posso consumare chiaro tanto che le gioca per cercare se ti erano più intanto a pedita che fice mi consumaro generale a picchiere ah mi consumaro perché gli avevano tolto la droga a droga a feneo i quali c'erano io sai che tempo poteva pigliare pare che risulti comunque va bene va bene lo stesso Presidente grazie Presidente nel corso del dibattimento il signor Contorno ha accennato a proposito di Armando Bonanno a qualche cosa relativa all'omicidio del capitano Basile ora vorrei sapere se direttamente o per informazioni ricevute il signor Contorno sa qualche cosa sui organizzatori o sui moventi anche soltanto sui motivi dell'omicidio Basile questo omicidio Basile lei sa qualche cosa ha fatto un accenno si c'è un particolare che Enzo Puccio era la famiglia di Michele Rieco o Madonia era la famiglia di Sottano o Bonanno non sa c'era una pettina e quale famiglia è erano genemente tutti disciaccati perciò quando si fosse omicidio il capitano Basile c'è scato l'opera nelle famiglie perché si aveva ammazzato il suo capitano ma siccome il capitano Basile aspetti torniamo indietro c'è stata l'opera nelle famiglie cioè praticamente c'è fu un gran fermento ammazzato il capitano perché la polizia il magistrato non voleva ammazzare noi ma c'è quei casi se ne fregava perché ormai si avevano fatti i picci ci interessava veramente chiare confusione a gente che erano fuori all'adattante e ci siamo usati perché sono mensibili e si coglia e ci siamo a piazza politica era una buona intenzione ora c'è fatto quando ammazzato il capitano Basile c'era una precisa intenzione nel commettere questi i fatti aspettandoci noi siamo all'adattante siamo consumati chi sono liberi si consumano e facevano proprio tante cose libere senza né commissione né niente avevano il potere in mano all'altro punto c'era su Enzo Bucci che usciupitava quando erano a Morreale sotto a Morreale venivano i migliori e ci sono non c'è niente come sapete Fiennes e allora tutti i lavori li attaccavano però lui era d'accordo con l'altro signore come il signore Di Carlo Aitofonte e compagni e chiamanti San Giuseppiato e compagnia erano tutti racconti a farlo perché ci inquietavano i paesi un capitano Basile ci aveva rappresa la caccia di latte e c'era un imperoglio immensibile e se ne usciero Ma lei ha detto una cosa senza né commissione né niente Sì facevano diversi omicidi senza commissione perché si abbondano Cioè senza che la commissione avesse deliberato No facevano la commissione però tutto raccogli non c'erano alcune volte come è successo l'omicidio lo Iurice il Presidente non ricordo cosa era c'è fu la commissione tra me tutti li avevano fatto la remenza di altri signori che non fa una commissione che non c'erano perciò qualsiasi fatti ne successe non deve essere però la maggior parte è sempre la commissione che c'erano quelli di affallo Di questi fatti ne successe cioè un delitto compiuto senza che si interpellasse la commissione Nella zona di noi c'era un colleonese che veniva a fabbricare veniva in Milano e abitava in Milano arrivò nel nuaggio c'era costruendo noi ce l'avevamo conosciuto il suo signore tromparevo ma il tromparevo ricordo la pettite su Vittaro perché veniva con il leone esso venivano a pigliare la via regione siciliana però Stefano Bontà non ne sapeva niente perché dopo la moglie ricercava suo marito nella zona di Villagrazia ma suo marito ne sapeva fu Stefano Bontà o fu coccionare la nostra famiglia dopo un secondo tempo non ne sapeva ma fu signor Tocciorrino a fare sorriere la nostra e Stefano a pigliare a venire a preso e c'era un signor Tocciorrino una dei tanti quindi questo quando era vivo Bontà sì questo ci sto portando un esempio come si chiamava se lo ricorda un cantiere ancora dopo perché dopo mancò padrono non potono costruire più ma ancora c'è perché dopo la guadagna cantiere la guadagna come? cantiere un cantiere nella guadagna sì nella guadagna una zona nella zona della guadagna sì un nome me lo vedo che non conosceva non eravamo va bene il avvocato Mancos 85 Presidente quindi se ho posso sintetizzare quello che ho capito mi pare di aver capito che il sto dicendo quello che ho capito io e mi dirà non ha capito bene se allora faccio un'altra domanda aspetta aspetta lui stava raccontando un episodio che concerneva mi sono distratto perché che concerneva un corleonese il resto mi pare che è stato percepito Presidente io volevo sapere questo ho capito bene che i tre killer venivano da tre famiglie diverse io devo capire lui ha specificato chiedo se venivano da tre famiglie diverse delle quali una quella di Michele Greco io ho fatto una richiesta non lo suggerisco niente mi dica no se non è vero ma questo l'ha detto l'imputato che suggerisce la risposta lui sta chiedendo semplicemente se effetti aspetta avvocato in serio lascia parlare a me l'imputato ha detto che i tre killer che lui attribuisce all'omicidio del capitano Basina erano uno della famiglia di Michele Greco e Puccio l'altro di altre famiglie e quindi lui ha fatto soltanto questa va bene questo allora avevo capito perfettamente vorrei fare un'altra domanda no no l'avvocato in serio evidentemente l'avvocato in serio non ha capito la mia domanda perché non ho dato interpretazione ma ancora non l'ha fatta una conferma vogliamo vedere quale sarebbe anche l'avvocato russo credo che non abbia capito la domanda comunque faccio un'altra domanda avvocato Romano quello che faccio perlomeno l'avvocato Romano ma perché questo attrito tra avvocati veramente è una cosa che mi addolora e mi lascia veramente sconcertato che tra professionisti si assumano questi toni senza nessun bisogno perché voi state tutti facendo il ruolo che si dice che nessuno ha capito niente no ma chi è che ha detto che nessuno ha capito niente ma io non l'ho sentito avvocato Romano basta avvocato Romano avvocato Romano presidente i colleghi che mi conoscono stati non ho mai ma io non ho sentito quello che lei si assume che anche ha detto l'avvocato Mancoso io non l'ho sentito e la prego di stare zitto no l'avvocato Mancoso lei vorrei fare un'altra domanda vorrei sapere dal signor contorno se ha mai avuto conoscenze dirette oppure conoscenze perché riferite i fatti a proposito dell'omicidio del vicequestore Giuliano lei sa qualche cosa dell'omicidio di Giuliano non ho nessuna notizia perché non ho neanche ricordo che periodo è successo non ricorda neanche il periodo in cui questo è accaduto no no nessuno ha in merito va bene presidente io ho finito ci sono altre parte civili si no parte civili si ah il pubblico ministero ha ragione scusa io parte civili ho detto si vede che neanche loro hanno finito c'è pubblico ministero si c'è c'è l'avvocatessa Garofalo la linea 73 83 signor presidente desideravo sapere se l'imputato è in grado di precisare chi erano i membri della commissione all'epoca dell'uccisione del generale dalla chiesa lui ha fatto su mia domanda lui ha specificato qual era la commissione che lui conosceva all'udienza precedente sa chiarire che cos'era questa interprovinciale lei ha mai sentito parlare di interprovinciale si ne ho sentito parlare e che cosa sarebbe stata ma c'era c'era palermo e interprovinciale che erano chiedi di paese la commissione era per palermo c'era chiedere palermo interprovinciale quella dintorno era palermo interprovinciale solo dintorno di palermo e a conoscenza della interprovinciale facevano anche parte membri delle famiglie mafiosi catanesi catanesi ce n'erano in questa interprovinciale è chiaro Santa Paola c'era Cicino Madonea che è stato ucciso era Pidioco Catania dintorno c'era Catanesetta Catania iniziavano tutte ah paesi iniziavano le province si sa per caso i catanesi fin da che anno facevano parte o fecero parte di questa interprovinciale insomma quando cominciarono a far parte i catanesi o comunque se questa interprovinciale se lei sa dire quando si cominciò a parlare di questa interprovinciale di quando sono entrato a far parte io già si sentiva parlare però di quanto c'è o quanto tempo se c'è ancora c'è o non lo so perché lei è entrato nel 75 io nel 75 quindi lei ha cominciato a sentire parlare entrando dentro la quando sono andato a fare parte io già si parlava altro si conosceva Alfio Ferlito eventualmente in che rapporti era con costui lei conosceva Ferlito personalmente si ha avuto modo di conoscere Ferlito ha avuto modo di si modo di conoscere si di conoscerlo e di avere a che fare con lui si 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 dove è quando dove è quando faceva i sigaretto doppia sigaretta mi sa fare la droga era amico di Stefano Ponta faceva i sigaretta perché i catanese i chiusi ne volevano nascere volevano ammazzare e le rappoggiate dicevano la bontà e tutto ciò si è rito e così arriva a campare un po' di tempo quando dopo si mangiava la bontà si mangiava però come volete sa cazzo la lanza ci faceva una fece hanno fatto la festa altro insomma il periodo in cui l'ha conosciuto lo puoi precisare? l'ho periodo fu nel 74 77 78 insomma dopo che lei era diventato no no prima di Omo Donore lo conosci prima che lei diventasse Omo Donore e chi dove aveva i vecchi c'eravano a Catane allora in periodo precedente l'ha conosciuto alla sua entrata nell'organità avvocato non c'entrano le domande per ora stiamo facendo delle domande poi quando avremo i difensori lei farà le sue domande no perché io mi avete costretto a revocare quella disposizione che avevo dato no mi dico mi avete intendiamo qualcuno ovviamente dunque allora partecipite 83 all'anno spento è in grado di precisare in che rapporti per quelle che sono le conoscenze dell'imputato Ferlito fosse con il Santa Paola lei sa qualche cosa dei rapporti tra il Ferlito e il Santa Paola Ferlito era una famiglia di Santa Paola però prima di Santa Paola c'era Giuseppe Caccedone o compari di Michele Zazza e c'era pure il fratello di Caccedone era senza voce aveva un microfono per parlare Pippo Caccedone aveva un microfono che aveva aveva un microfono che si appoggiava la gola e c'era un fratello di Antonio era senza le corde vocali di periodo che conoscivo io era il rappresentante di Catania picchiera per un mezzo di sigaretta a Napoli era amico purista fanno bontà e tanti altri era compari di Michele Zazza e ora è rimasto il fratello di Antonio se ancora vivo di Santa Paola ma il Santa Paola e il Ferlito in che rapporti erano? Prima era il Ferlito dipendeva il suo Pippo dopo ammazzare il Pippo è rimasto su Santa Paola come infatti il fratello di il suo Pippo passò nel Santa Paola a me mi sanizia se ancora vivo come l'hanno ammazzato ci ammazzarono frate una cosa una cosa non è malissima e il Ferlito dipendeva su Santa Paola e se un amico ribontare di inserirlo quando gli erano cacciano il reno a portare un palermo ci ufficio di ammazzare picchiera una persona molto importante era appoggiato a chi si palermo un'ultima domanda sempre per quelle che sono le conoscenze dell'imputato sa se l'omicidio di Ferlito è da debitare alla commissione o a parte dei componenti della stessa sa qualche cosa dell'omicidio di Ferlito di preciso non sa c'è niente però nel nostro ambiente è elementare che è da abitare a Santa Paola perché ho pensato che è un palermo di ammazzare un palermo di Santa Paola perché poi ti viene perché è un palermo poi ti viene perciò la cosa cammina retta a retta e dico solo del Santa Paola in grado di precisare sì sì proprio di Santa Paola perché a io ci interessava la mia sabbia di nemmen si pierce perché era amico di Palermo diciamo per bontà inserirlo grazie presidente ma che Santa Paola avrebbe potuto commettere questo omicidio senza avere un un consenso da parte della commissione ma siccome già avevano tanto di quella larga mano questa commissione la senevano quando ci faceva comodo o non ci faceva comodo faiavano i suoi fatti perciò non avevano problemi dopo che ci hanno ammazzano tanti puntandoci un'accusa perché gli uca duro perché fanno la trafessaria e ammazzo perciò ammazzare un fallito farci un'accusa è facile oggi la mentalità di oggi si usa così non è come una voce si ragionava diciamo ne ammazziamo faremo un'altra voce oggi appena ammazzalo una vita umana non coscia niente altro grazie presidente ho terminato si no avvocato ancora c'è una lunga mi dispiace lei ha certamente premura perché lo capisco perfettamente ma no non si tratta di esaurire abbiamo ho specificato più volte avvocato desidero che lei non mi chieda la parola prima me dunque l'avvocato Garilli numero 89 84 Presidente può chiedere all'imputato se conosce chi gestiva la zona di Corso dei Mille per favore quindi la famiglia che governava Corso dei Mille no la famiglia che governava Corso dei Mille il campo della famiglia il capo della famiglia no è bene il capo della famiglia di Corso dei Mille ma purtroppo un cecchio fosse un marchese Filippo Marchese purtroppo un cecchio sì sicuro perché aveva confermato l'uomo di un onore in carcere ah l'è stato confermato la morte del marchese Filippo da un uomo di un onore nel carcere come sparito non sa niente sì son parito perché voleva diventare padrone dell'Italia no dato che era facile comandare padrone dell'Italia sì si aveva confiato tanto però dopo si mangia pure il suo sangue che sarebbero i fratelli e le mogliere i cognati perciò sa dire se i figli di Filippo Marchese appartenevano a Cosa Nostra i figli di Marchese Filippo i figli di Marchese Filippo erano per un uomo un uomo un uomo e un uomo un uomo che significa un uomo che camminava tutto il uomo un uomo come ci camminava io prima era a diventare ah camminavano insieme con persone che appartenenti a Cosa Nostra però non sa lei precisare se se si 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 combinato non usaci ecco combinare significa entrare nell'organizzazione grazie allora pubblico ministero si cominciamo qualche domanda direi che ne ha più bisogno il presidente di altri della pausa in questo momento ha un spirito rivolto anche alla smiria di una pausa vi ringrazio non ne ho fatte coi avrei è buona vi sembra per chi conduce l'interrogatorio è abbastanza pesante per il presidente ma si volete contestare pure la la sospensione volete contestare pure la sospensione l'udienza è sospesa per 10 minuti